ho rinforzato la parete attivazione nitro porco dio uno da un lato uno da un altro ma in droga uso un nuovo caricatore ok ok si ci parete sicura cambio caricatore quando l'ha fatta fuori a maverick qua non 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 posso risoluzione si però diciamo le lezioni quelle principali oh voglio 9 minuti non penso che 9 minuti non penso che 9 minuti non penso che 9 minuti non avete finito ancora 10 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba 10 minuti per aggiornare un cicero la squadra d'attacco ha trovato una bomba eh ah che truc la 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 Pugno, vedi di convolto. Guarda qui, se noia, qui non è barricato oggi. Guarda qui, tu come si metti qui sopra? Non so, l'ho messo male, va bene, l'ho... Sono a destra? Eh no, via, tutto il soffitto. Usa un nuovo caricatore! Un operatore alleato rimasto. Oddio! Non ci sto capendo niente. Ho ucciso il soffio. Questa è una paura, che cazzo. L'ultimo attaccante rimasto in vita. Oddio, porca... che cazzo fatto, che faccio andare. Uffiu. Luca, hai mai pensato che potevi andare in Pro League? Guarda, io all'epoca ci potevo andare pro... Prendete l'area e proteggete le bombe. Pre... è la Pro League che viene da me. Forse... ma... ma... ma lo scritto è un messaggio quelli là. Mi rispondro. Non è piaciuto. Che lingua. Che ti hanno detto, Luca? Ti hanno detto perra, fra. Un secondo me... Un secondo me... Un secondo me è un secondo così. Un secondo. Un secondo. Un secondo. Un secondo. Un secondo. Ancora 5 secondi. Dispositivo attivato. La squadra d'attacco ha trovato le... No, non andare qui, che hanno rotto il botolo. Mi è fatto un mare. Pitch. Questa cosa l'ho fatto per un infarto, sono uscita di uco di colpa. Perchè, ma questi hanno il drone attaccato al buco del culo, non fanno un passo che dronano subito dopo. E' già Gesù Cristo. Da dove? Eh, dalle scale, non so come si chiamano. Appena c'è il corridoio a sinistra, a destra. Era... Ah, porca troia. E' nato tutti io. E' l'ha amato. Ma questo è il libro di ciccio, non è il libro di ciccio. Sì, non so neanche, che cazzo è il libro di ciccio? Dai, questa qua la metto su YouTube questa partita. Le fantastiche... No, ma proprio ciccio di copyright, è vero, non lo posso fare. Non lo posso fare. E' uscita dal party. No, richiamatelo. Sì, 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 la carica. Ma ora farò schifo e non la caricherò più, dettaglio. Sì, 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 sì. È vero, se vinciamo lo scrivo. Dobbiamo individuare una bomba. Guarda... Dove è sulla destra o sulla sinistra? Non me lo aspettavo, sento la vita. Un tristinto. Dove è la gamba di partire. È buio. L'avrei rotto secondo me. Oh, sono difensore in atto. Mio, 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 mio. Dov'era? Mi ha, mi avrò andato. Sì, è lì. Dov'è? Dov'è? Ah, dov'è? Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Il sinnescatore è attivo. Proteggetelo a tutti i costi. Oh. Mi ha oculto. Oh, oh, oh. Ha! Difensori neutralizzati. Vittoria per gli attaccanti. Dov'eri? Dici. Ah, ok. Tu arrivo. Ah, ok. Ok. Vittoria reale. Sarà troppo bello quando... Oh, oh. Oh.